Salve a tutti, è una breve guida su come utilizzare l'apribocca di gomma per fare le foto endorali a scopo ortodontico. Dopo esservi accuratamente lavati le mani, potete aprire la diga e estrarla dal contenitore. A questo punto, dopo averla là, potete schiacciare con le dita. La parte rigida, cioè le alette rigide, devono essere esterne. A questo punto lo inserite prima da un lato e poi dall'altra, avendo cura di sistemare le labbra in maniera da avvolgere la diga. Adesso, aiutandovi con il vostro smartphone, riprendete in maniera lenta i vostri denti chiusi sia a destra che a sinistra, aiutandovi a divaricare la diga con le dita. Mandate le immagini anche della vostra bocca aperta, sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la collaborazione e a presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.